Io avrei pure potuto dire, sapete che a me mi interessa solo del collegio uninominale di Roma, quindi facciamo politica non per fare un partito politico, ma per fare eleggere l'abbonino all'uninominale di Roma. Non so se queste persone sarebbero però state insieme a me, quindi non so se avrebbe funzionato. Credo che proprio sia un modo sbagliato di porre la questione. Le potrei rispondere, che senso aveva allora prendersi Fratoianni e Bonelli se a metà della campagna elettorale devi raccontare che non ci faresti neanche un governo insieme? Come ti puoi far votare su quella base? Dunque questo è il punto che noi abbiamo tenuto dall'inizio della campagna, l'abbiamo continuato a tenere. Dopodiché mi dispiace molto che Emma Bonino non entri in Parlamento. Nonostante gli insulti ricevuti dal primo giorno, ho detto che speravo che sarebbe rientrata, lei sapeva perfettamente dove mi sarei candidata e il PD l'ha usata in questo gioco contro di me e ha fatto un errore, ha fatto un errore lei. Peraltro mi spiace anche per più Europa che non raggiunge la soglia e quindi scompare come partito politico facendo eleggere i suoi due, non lo so se sono segretario e non so cos'è Maggi. Mi dispiace, anzi continuo a pensare che le porte devono essere assolutamente aperte per loro. però la mucchiata del tutti contro funzionava se allora dovevano farlo anche con i 5 Stelle. Invece questa via di mezzo non l'ha capita nessuno, tant'è che il PD ha un dato disastroso nonostante siano rientrati articolo 1 e compagnia cantante.